Parte seconda, 1955. L'ombra sul muro era quella di un cane, ma dopo pochi istanti si tramutò in un coniglio. Ora un uccello, bisbigliò Arthur, le mani premute contro le guance. Vivian intrecciò le mani e sulla parete il coniglio lasciò il posto a un uccello, che spiegò le ali e sbattendole si liberò fino al soffitto. «Sembra vero», disse Grace, le labbra socchiuse e gli occhi che seguivano incantati l'ombra che svolazzava sui muri. «De cosa sono fatte le ombre, Miss Meyer?», domandò voltandosi a guardarla. Vivian alzò gli occhi al soffitto, dove l'uccello sembrava in cerca di una via di fuga. Sciolse le dita e quello svanì, libero. «Sono fatte di luce, di mancanza di luce». Grace rotolò sulla pancia, reggendosi il mento con il palmo della mano. «Come si può essere fatte di qualcosa che non c'è?» Un sorriso amaro increspò le labbra di Vivian. «È così per molte cose, e anche per alcune persone. Adesso è ora di dormire, però». Aiutò i bambini a infilarsi a letto, rimboccando loro le coperte sotto il mento. Quando fu sull'uscio, il dito pronto a premere l'interruttore, lanciò un ultimo sguardo alla sua ombra, che si stagliava contro il muro, dove poco prima aveva fatto volare uccelli e abbaiare cani. «Sì, la sua ombra era fatta di assenza, ma non della semplice assenza di luce. In quell'ombra che la seguiva, o la precedeva, che si allungava sulle strade e si frammentava negli specchi, Vivian scorgeva la vertigine di un vuoto impossibile da colmare, il sortileggio di un destino difficile da sovvertire. L'ombra, l'altra Vivian, era intessuta di distanze e rancori, di promesse infrante ed illusioni, di tutte le sue solitudini. L'ombra era il suo abisso, e lei, Vivian, ci faceva i conti ogni giorno della sua vita, e così sarebbe stato sempre», premette l'interruttore, e lasciò che il buio avanzasse fino a lei. Vivian e Marie vivevano a Saint-Julien-Champs-sur da due anni, quando Marie Florentine rientrò dal mercato, accompagnata da un uomo. Il calesse sollevò la polvere del cortile e fece scappare due galline che razzolavano davanti all'uscio di casa. Vivian, seduta sugli scalini, abbassò il libro che stava leggendo, e guardò l'uomo smontare dal calesse e aiutare la prozia. Marie Florentine era una donna dal fisico tutt'altro che minuto, ma quell'uomo la sovrastava di almeno una testa. «Vi ringrazio, è stato gentile da parte vostra volermi riaccompagnare a casa», disse Marie Florentine, brusca. Sembrava volersi liberare al più presto di quel solerte sconosciuto. «Il piacere è stato mio, madame». «Mademoiselle», precisò Marie Florentine. L'uomo sorrise sotto i folti baffi, mettendo in evidenza la dentatura guasta. Dal cappello a tesa larga, spuntavano i capelli unti. «Spero di incontrarvi ancora, mademoiselle Jossot», disse, afferrando una mano di Marie Florentine e posandovi sopra un bacio. Vivian ridacchiò, vedendo la prozia riprendersi la mano lesta come un gatto, mentre le gotte le si coloravano di rosso. «Ora è proprio il caso che andiate, monsieur Breton. Buona giornata». Quando il calesse si fu allontanato, Marie Florentine si avviò verso casa, stringendo al petto la sporta di paglia, che aveva un manico rotto. «La sporta si è rotta», raccontò la prozia quella sera davanti allo sguardo sospettoso di Marie. «Un vero disastro. Le cipolle e le patate sono rotolate per la strada, e monsieur Breton è stato tanto gentile da aiutarmi a raccoglierle». Vivian immaginò l'uomo, dai capelli unti, inseguire le cipolle che ruzzolavano per le vie del mercato, spolverarle contro la manica della camicia e renderle a Marie Florentine senza smettere di vestire quel sorriso inquietante. «Monsio Breton?» domandò Marie aggrottando le sopracciglia. «Pierre Breton è di Buissart? Viene a Saint-Julienne nei giorni di mercato», spiegò Marie Florentine, e Vivian notò che il suo sguardo restava basso, mentre lo diceva. «Credo che tu sappia quello che fai, tant», fu l'aspro commento di Marie. «Mi ha solo offerto un passaggio per tornare a casa, Marie, e se vuoi saperlo non mi è dispiaciuto accettarlo, inizio ad avere il fiatone quando cammino». Il raschiare della sedia contro il pavimento mise fine alla discussione, ma la settimana successiva il calesse di Pierre Breton imboccò di nuovo il viale di Boregar. «Arrivederci, Pierre», disse la prozia, mentre lui le porgeva la sporta di paglia, che questa volta aveva entrambi i manici integri. «Pierre», borbottò Marie, osservando la scena con le braccia concerte, «fino a qualche giorno fa era Monsieur Breton. Adesso è diventato Pierre. Mi chiedo cosa sarà domani». Vivian scorse la tempesta a densarsi negli occhi di sua madre e ritenne più saggio di leguarsi. A piedi raggiunse il centro del paese, dove sperava di incontrare qualcuno dei suoi amici. A Saint-Julien, per la prima volta nella sua vita, Vivian aveva trovato dei compagni di gioco, bambini della sua età che, come lei, avevano le ginocchia sbucciate e i capelli tagliati a scodella. Quando la scuola era iniziata, Vivian si era sentita nuda dinanzi agli sguardi curiosi degli altri bambini. Sapevano che arrivava da lontano, dall'altra parte del mare. La chiamavano l'American. Molti di loro avevano parenti che, emigrati negli Stati Uniti, non avevano più fatto ritorno. Tutti immaginavano il nuovo mondo come un'edene tracimante di possibilità. Vivian si era seduta in fondo all'aula e non aveva mai sollevato la mano per rispondere alle domande dell'insegnante. Quando le lezioni erano finite, aveva preso la cartella che era stata di Marie ed era sgattaiolata fuori dall'aula, con lo sguardo basso. Aveva ripetuto lo stesso comportamento nei giorni successivi, desiderando solo svanire in se stessa. Avendo vissuto sempre e solo, circondata da adulti, era incapace di relazionarsi con persone della sua età. Fino al giorno in cui Camille Morin venne a sedersi accanto a lei durante la ricreazione. Stava mangiando un pezzo di pane spalmato di burro e, con naturalezza, lo divisi a metà, porgendoglielo. «La tua mamma non te la prepara la merenda?» Vivian aveva scosso la testa, incapace di proferire parola. Camille si era stretta nelle spalle, continuando a sbocconcellare il pane. Vivian l'aveva imitata e per un po' nessuna delle due aveva parlato. «E com'è di là, dall'altra parte?» aveva domandato infine Camille, voltandosi verso di lei. Aveva gli occhi verdi e le guance cosparse di lentiggini. «Qui è meglio», aveva risposto Vivian dopo averci riflettuto alcuni istanti. «Mio zio è laggiù. Ogni tanto ci manda dei soldi. Quando arrivano sono in una busta che ha tanti timbri postali». Camille si era pulita le mani unte di burro sul grembiule. «Maman dice che lì si vive meglio, che un giorno lo raggiungeremo». Vivian aveva finito di masticare il pane, domandandosi da dove arrivasse questa frenesia delle madri di fare armi e bagagli e trascinare i figli in giro per il mondo. Non aveva ancora trovato una risposta che riuscisse a soddisfarla. Camille si era alzata in piedi, scrollando le briciole dalla gonna. Poi si era voltata e le aveva porto la mano. «Vieni a giocare?» Vivian ci aveva messo qualche secondo per rispondere, sopraffatta da una felicità che sperimentava per la prima volta nella sua interezza. Quel giorno Vivian trovò la piazza deserta. Il campanile gettava un'ombra sinistra e il cielo era un ammasso di nubi che minacciava di frantumarsi da un momento all'altro. Non aveva voglia di tornare a Boregar, così decise di incamminarsi verso Saint-Bonnet, a casa di Nicolas. Nei due anni che erano seguiti al loro incontro, Vivian aveva imparato a conoscere quell'uomo dai molti silenzi, che preferiva la solitudine alla compagnia, gli oggetti inanimati alle persone in carne e ossa. La resistenza di Marie era stata di breve durata e Nicolas l'aveva riconosciuta ufficialmente come figlia nell'agosto del 1932, ma il vero legame, quell'uomo tanto enigmatico, lo aveva stretto con la nipote. Entrambi riservati, di poche parole, Vivian e Nicolas si erano riconosciuti anime affini, stringendo un sodalizio che andava oltre il legame di sangue. A Vivian piaceva trascorrere i pomeriggi in compagnia del nonno. Seduto su uno sgabello davanti alla finestra, Nicolas intagliava pezzi di legno da cui cadevano riccioli di segatura, mentre Vivian, accoccolata per terra a gambe incrociate, leggeva a voce alta i racconti di Henry, da una vecchia coppia che Nicolas aveva portato con sé dall'America. Era un modo, per entrambi, di tenere viva quella lingua che andava smarrendosi tra ricordi sempre più nebulosi. Quando Nicolas aprì la porta, trovò la nipote sull'uscio, le braccia strette al corpo, fradicia. «Entra», disse, facendola sedere davanti alla stufa, accesa nonostante fosse primavera ormai inoltrata. «Cosa ci fa in giro con questo tempo?» domandò, mettendo a scaldare del latte sul fornello. «La zia ha portato a casa un uomo, e alla mamma questo non piace», rispose Vivian imbronciata. Nicolas levò un sopracciglio. «Un uomo? Marie Florentine? E chi sarebbe? Si chiama Pierre Breton, ha un calesse con un mulo, lavora al mercato». Nicolas versò il latte in una tazza e lo porsi a Vivian. Dalla stufa arrivava un piacevole tepore, unito al profumo della legna che bruciava. «Credi che si sposeranno?» domandò Vivian. «Mi sembra un po' prematuro fare questi discorsi». Nicolas volse lo sguardo alla finestra, alla pioggia che si abbatteva con violenza contro i vetri. «Grand-père?» «Oui, dimmi, Vivian. Se la zia Florentina ci manda via, io voglio stare qui, con te». «Bien m'appetit, ma dubito che tua zia farà qualcosa del genere». Nicolas sorrise, incoraggiante, e Vivian finì di bere il latte, tacendo su quelli che erano i suoi reali pensieri. A spaventarla non era Marie Florentine, né tantomeno Pierre Breton. Quello che Vivian temeva era l'ombra balenata negli occhi di sua madre, un'ombra che lei conosceva bene. Era l'inquietudine che morde il cuore, la smania di divincolarsi dal gioco. Pierre Breton diventò, con il passare dei mesi, una presenza fissa a Boregar. Quando alzava il gomito diventava sguaiato e chiamava Marie Florentine «dus minette», prendendola sulle ginocchia e facendola ridere come una scolaretta. Marie, che aveva trovato lavoro nella boulangerie del villaggio, al suo rientro lo trovava già seduto a tavola, i capelli unti che gli sfioravano le spalle, e una bottiglia di vino mezza vuota accanto a sé. Dopo cena andava a giocare a carte al caffè, e sempre più spesso si ripresentava a Boregar a notte fonda, inciampando nei mobili e imprecando a gran voce. «Così non può andare avanti», gridò Marie una mattina esasperata. «Questa non è casa tua, Pierre, tornatene da dove sei venuto». Pierre Breton si appoggiò contro lo schienale della sedia, rivolgendole un sorriso beffardo. «Bon, non è nemmeno casa tua, Cherie. La casa è di Marie Florentine e lei mi vuole qua. Giusto, minette?» Marie Florentine incrociò le braccia sopra il seno, lanciando una breve occhiata a Vivienne. «Non sei in ritardo per la scuola, mon petit oiseau?» Vivienne posò sul tavolo la scodella da cui stava bevendo il latte, pulendosi le labbra con la manica del vestito. «Vivienne, quante volte ti ho detto di non farlo?» esclamò Marie, nel cui tono stridulo già si percepiva la tensione dello scontro. Vivienne scese dallo sgabello e in silenzio si avviò verso la porta. «Dove vai, passerotto? Non lo dai un bacio allo zio Pierre?» esclamò l'uomo sporgendosi verso di lei e afferrandola per un braccio. Vivienne rimase immobile, rigida. Nel fiato di Breton percepiva l'odore acre del vino e dei denti guasti, acqua stagnante sul fondo di un barile. Le si contrasse lo stomaco e in bocca avvertì il sapore acido del vomito che si costrinse a ricacciare indietro. «Ah, sei una bambina cattiva, Vivienne. Un petit diable. Se non vuoi darmi un bacio, lo darò io a te. Voilà!» esclamò, sporgendosi verso di lei e premendo le labbra incorniciate dai baffi spioventi contro la sua guancia. «Io ti voglio bene, Vivienne. Je t'aime beaucoup!» sussurrò, con lo stesso tono con cui altre volte, lontano dagli occhi di sua madre e della prozia, le aveva imposto lo stesso supplizio. La prima volta l'aveva sorpresa vicino alla stalla, mentre accarezzava i gatti che le cavano il latte dal fondo di un piatto. La sua ombra l'aveva privata del sole e Vivienne si era voltata a cigliata, scoprendolo a incombere su di lei. «Che combini, Puppé? Ti annoi?» «No?» aveva risposto Vivienne, distogliendo lo sguardo. Alcuni gatti erano fuggiti quando Pierre si era avvicinato, ma lei non era stata altrettanto veloce. «Continuano a riprodursi queste dannate bestie». Aveva arricciato il naso, rivolgendo un'occhiata ai gattini di pochi mesi, che si affollavano attorno alla madre. «Forse dovrei metterli in un sacco e affogarli. Domani lo faccio». Vivienne era tornata a voltarsi verso di lui, lo sguardo colmo di terrore. «No, no, no!» «Non ti ci sarai affezionata a queste bestiacce, spero. Sono piene di pulci e non sono nemmeno brave a prendere i topi. Anzi, sai che ti dico, ci vado subito a vedere se trovo un sacco abbastanza grosso». Vivienne aveva sentito il pianto incastrarsi in gola. Le bruciavano gli occhi, le mancava il respiro. «Ti prego, Pierre, non fargli del male». Pierre si era portato una mano al mento, pensieroso. «Ma, Vivienne, devo farlo. A meno che...» Si era piegato sulle ginocchia e Vivienne aveva visto i denti guasti baluginare nel suo sorriso. «A meno che...» «Tu non sia carina con me, bambolina. Sarai carina con lo zio Pierre, se prometto di non affogare questi sudici gatti?» Vivienne aveva annuito in silenzio. «Brava bambina, sei proprio una bambolina, lo sai? Vieni qui». Le aveva teso le braccia e Vivienne si era avvicinata titubante. «Dammi un bacio, Cherie, un bacio e lo zio Pierre non farà alcun male ai tuoi gattini». Controvoglia, Vivienne si era asporta verso di lui, che le aveva stretto il polso con la mano. «Siediti qui, sulle mie ginocchia, così, brava bambina. Sarai il nostro segreto, mio e tuo. La zio Florentine sarebbe gelosa, se sapesse quanto bene ti voglio, mia piccola Vivienne». Aveva detto, scostandole i capelli dalla nuca, mentre con l'altra mano si slacciava la cintura dei pantaloni. Col passare dei giorni, Vivienne aveva imparato a stargli alla larga, a rifuggire i posti dove poteva essere sorpresa a tradimento, gli angoli bui dove l'avrebbe messa con le spalle al muro, ma non sempre riusciva a sfuggirgli. Pierre la terrorizzava con le minacce, poi pretendeva di consolarla. Insisteva sempre perché gli sedesse sulle ginocchia e le accarezzava il volto, le spalle, le cosce, il fiato rancido che le sfiorava il collo. A volte insinuava le dita sotto l'orlo del suo vestito, mentre Vivienne, rigida, fissava un punto davanti a sé, ingoiando le lacrime. Quella mattina Marie si alzò dalla sedia e la afferrò per un braccio, strattonandola. «Non ti azzardare più a mettere le mani su mia figlia», si bilò. Pierre scoppiò in una risata, alzandosi in piedi. «Non stento a credere che tuo marito sia scappato, Marie», disse, infilandosi il cappello. «Esco a fare due passi, qui l'atmosfera si è fatta pesante». Dopo che se ne fu andato, sua madre rivolse un'occhiata piena di disprezzo a Marie Florentine. «Non ho intenzione di trascorrere un minuto di più sotto lo stesso tetto di quell'uomo. Decidi tanto, o noi o lui», esclamò furente. Marie Florentine scosse la testa. «Marie, mondio, tu hai già deciso», disse Marie incredula. Passò qualche secondo e a Vivienne parve di sentire il silenzio che le circondava, tendersi fino al limite consentito, prima di spezzarsi. «Ce ne andiamo oggi stesso». «Marie, cerca di essere ragionevole, c'è tanto spazio qui. Non si tratta di questo». Marie guardò dritto negli occhi la donna che l'aveva cresciuta. «Ti sei presa in casa un disgraziato, un buono a nulla, uno che porterà solo guai. Ha già iniziato a farlo». «Non ti permetto di parlare così di Pierre, Marie. È vero, ha un carattere che bisogna imparare a prendere per il verso giusto, ma è una brava persona». «No, non lo è, e mi addolora che tu non riesca a capirlo, ora, perché quando lo capirai sarà troppo tardi. Una donna della tua età che si lascia accecare dal sentimento in questo modo è solo patetica». Lo sguardo di Marie Florentine si fece duro. «Io ti ho cresciuto, Marie. Non tollero che mi parli in questo modo», esclamò, battendo con violenza il pugno contro il tavolo di legno. Vivian sussultò. «Sai cosa ti dico? Vattene. Se vivere qui con me e Pierre ti provoca del disgusto, prendi le tue cose e vattene. Del resto è questo quello in cui sei brava, no? A scappare e ad abbandonare i figli». Vivian non vide sua madre sollevare la mano e colpire Marie Florentine, ma sentì il rumore dello schiaffo lacerare il silenzio. Le parve che anche le pentole di rame appese alla rastrelliera tremassero e si domandò perché non crollassero a terra con fragore. Quella sera stessa Vivian e Marie fecero le valigie e lasciarono Boregar, camminando contro vento come quando erano arrivate due anni prima. Tenendo i bambini per mano, Vivian attraversò la strada. La Rogers Memorial Library, all'angolo tra Jobs Lane e Main Street, era un edificio in stile vittoriano con i tetti a spiovente e le torrette gotiche, circondato da un ampio giardino. Varcata la soglia, Vivian venne accolta dal familiare odore di carta stampata. Il profumo dei libri, pensò, avrebbe dovuto essere imbottigliato e utilizzato per placare ogni nostalgia, ogni dolore. Insieme ad Arthur e Grace si avventurò tra gli scaffali, lasciando scorrere le dita sui dorsi dei libri. Le pareva quasi di sentirli mormorare, sussurrando storie. I bambini si guardavano attorno, con i nasi all'insù. «Come sono arrivati là?» domandò Arthur, indicando la sommità di una scaffalatura di mogano. «Ci sono arrivati da soli? Con un salto?» Arthur parve dubbioso. «E noi come li prendiamo?» «La verità?» Vivian abbassò la voce per non disturbare le persone che leggevano seduti ai tavoli, le lampade che gettavano pozze di luce sulle pagine aperte. «La verità è che sono i libri a venire da te, quando ne hanno voglia. Quando è il momento giusto. Funziona così con le storie. Ti vengono a cercare». Raggiunsero la sezione che le interessava e Vivian scorse i titoli sulle coste, fino a imbattersi in quello che cercava. Solo quando si voltò, con i libri in mano, si rese conto che i bambini non erano più accanto a lei. Si mise a cercarli lungo gli scaffali, piegandosi per scrutare attraverso le fessure dei volumi. Fu così che andò a sbattere contro di lui. I libri le caddero di mano, aprendosi sul pavimento. «Miss Meyer!» Frank Warren sorrise, altrettanto stupefatto. Vivian distorse lo sguardo, chinandosi per raccogliere i libri. Frank fu più veloce e li afferrò prima di lei. «Ecco, tenga!» disse, porgendoglieli, non senza prima aver cercato di sbirciare i titoli. Vivian avrebbe voluto strappargli dalle mani, ma si trattenne. Mordendosi le labbra, avvertì il sapore del sangue. «Henry piace molto anche a me!» Frank sorrise. Poi il suo sguardo si spostò all'altro libro. «Bartleby lo scrivano», mormorò. «Un racconto perfetto, oserei dire». Vivian era tentata di girargli la schiena e andarsene. Si sentiva con le spalle al muro. «Sono curioso di sapere cosa ne pensa». «Prima devo leggerlo». Il tono era suonato brusco, tagliente. Alcune persone sedute ai tavoli levarono il volto con aria contrariata. Vivian agguantò i libri. «Ora devo andare dai bambini, la lascio al suo lavoro». «E io al suo ci vediamo a casa», disse Frank tranquillo. Lì, in mezzo a quella ragguardevole quantità di volumi, sembrava diverso. Sembrava nel posto giusto. La tentazione di prendere la roleyflex e afferrare quell'istante si impose con prepotenza e con altrettanta prepotenza Vivian la scacciò. Non poteva fotografarlo non lì in quel momento, ma avrebbe voluto, se ne rese conto a malincuore. Era così raro scorgere le persone nel posto giusto. Spesso la gente era da tutt'altra parte rispetto a dove avrebbe dovuto. Così stonata, fuori luogo e senza averne la minima consapevolezza. Vivian si voltò, camminando a passo spedito tra gli scaffali. Trovò Arthur e Grace seduti per terra a gambe incrociate, intenti a sfogliare le pagine di un atlante. Per un breve istante rivide se stessa nella cucina di Nicolà e qualcosa si mosse dentro di lei. Qualcosa che rischiava di alterare il fragile equilibrio in cui coesistevano dolori e disillusione. Il passato è una bestia impossibile da domesticare, pronta a saltare alla gola al minimo cenno di cedimento. È ora di andare, disse afferrando le braccia dei bambini e sollevandoli a forza. Arthur e Grace si divincolarono, provando a protestare. Ma siamo appena arrivati, piagnuccolò a Grace. A Vivian non importava, voleva solo andarsene, uscire da lì, allontanarsi dal sorriso compiaciuto con cui Frank le aveva porto i libri dopo averne letto i titoli. Era capace di farla sentire una sciocca e lo detestava per questo. Non sarebbe dovuta tornare dai Warren dopo Natale, se l'era ripetuto sin troppe volte da allora, se lo era ripetuto anche mentre attraversava l'atrio della Penn Station per salire sul treno che l'avrebbe riportata a Long Island. Quel giorno la stazione era gremita di persone. Bianchi e neri sedevano sulle lunghe panche di legno, gli occhi rivolti al grande orologio sospeso, le espressioni vacue. Vivian li aveva immortalati mentre se ne andavano pigiati gli uni contro gli altri come uccelli su una corda tesa. Camminò a passo spedito, i bambini che incespicavano per starle dietro. Perché corriamo? domandò Arthur. Vivian lo ignorò. Solo quando furono davanti a casa lasciò andare le loro mani sudate. Ansimavano entrambi e Arthur era sull'orlo delle lacrime. Vivian si piegò sulle ginocchia, afferrandogli le spalle con le mani. Cosa c'è? Perché piange adesso? Due lacrime rotolarono sulle guance del bambino. Non sto piangendo, mormorò, il labbro inferiore tremulo. Piangere non ti servirà a niente. A niente. Lo capisci? Prima lo imparerai, Arthur, e meglio sarà per te. Non gliene importa niente a nessuno delle tue lacrime. Piangere è solo un modo sciocco di perdere tempo. Aveva detto. E ora, mentre il volto di Arthur si accartocciava in una smorfia di sbigottimento e mortificazione, un vago senso di colpa si fece strada in lei. Guardò le sue mani, ancora artigliate alle spalle del bambino, e le parve di riconoscere le mani di sua madre. Lo lasciò andare, spingendolo via. Arthur barcollò, perdendo l'equilibrio, e cadde all'indietro. Seduto sull'asfalto, ci mise qualche istante ad assimilare l'accaduto. Poi eruppe in un goffo pianto. Grace, immobile, osservava la scena con un'aria distaccata, un'ostentata indifferenza dietro cui Vivian lesse solo sconcerto e paura. Si chinò verso Arthur, prendendolo tra le braccia e sollevandolo da terra, mentre il bambino seguitava a urlare, e con lui entrò in casa. Quella sera, dopo aver messo a letto i bambini, Vivian si ritirò nella propria stanza. Arthur le aveva tenuto il muso per alcune ore, prima di dimenticarsi il motivo per cui era arrabbiato. Nei bambini il rancore non dura a lungo, ma non svanisce. Si deposita da qualche parte, dentro, si accumula poco alla volta. Resta in attesa. Fino al giorno in cui da adulto ti si piegano le ginocchia, e a piegartele è stato quel dolore vissuto nell'infanzia, quello che ti è rimasto dentro, silenzioso, per anni, lasciandoti credere di aver dimenticato. Chiuse la porta alle sue spalle con due mandate di chiave, poi vi si appoggiò contro, inspirando come se le mancasse l'aria. Con lentezza si lasciò scivolare a terra, accasciandosi come un pupazzo all'improvviso privo di imbottitura. Le gambe scomposte e allungate davanti a sé, restò a guardare le torri di giornali che occupavano tutto il pavimento della sua stanza, e lì, in quello spazio saturo di parole d'inchiostro e di fotografie, ancora imprigionate nei rullini, si sentì finalmente al sicuro.